Siamo la scintilla che atticcherà il fuoco, che brucerà il primo ordine. Corazzo! Questa storia non andrà come tu pensi. Adempi il tuo destino. Quindi, i tuoi caratteri appartengono all'interno, ma la cosa buona cosa di questo film è che la speranza è passata mano a mano. C'è qualcosa che dovremmo fare oggi, passando la speranza, o non? È molto importante che tutti possiamo passare la speranza a tutti e non diventare individeri. La speranza che i leader stanno cercando di farlo, va contro la natura humana. La natura humana vuole chiedere per creare un mondo migliore, non un mondo migliore. Sì, credo che l'autoraggio è importante, l'angere è importante. Tutti cose necessarie per creare un cambiamento. Ma l'amore è la più importante, per sicuramente. Per parlare dell'angere, il carattere Roe, a fine del film, dice che stiamo a vincere, non combattere le persone che amiamo, ma salvare le persone che amiamo. Inoltre, il tuo carattere combattere le persone che amiamo e non amano a nessuno. Quindi, come la difficoltà è vivere senza l'amore e con tanto l'amore e l'angere? Perché possiamo trovare un equilibrio e l'amore? Perché non possiamo? Sì. Non il tuo carattere, ma in generale. In generale. In generale. è vero. È vero. Ci sono qualcosa di divertente sulla scurità, ma è molto interessante, in generale, in ogni caso, e questo è un po' di cui ci siamo interessati a loro. Ma, al migliorare, le persone che vogliono i golvi, è la brillante del film, ma è vero, ma la storia è diverso in reale. La scurità della scurità nella scurità nella scurità è divertente per un tempo. E poi, veramente, strano. The dark side in real life there is a lot of entertainment at the moment because there is a lot to laugh at because leaders are making fools of themselves on a daily basis around the world particularly ones that are in the media a lot and who are egotistical and think that people want to hear their opinions and they often make themselves appear as buffoons so I think it's really important that we can satire is really important at the moment for human nature it's a great way of protecting ourselves from darkness This movie teaches us how important it is to have a teacher in our lives especially a good one how much important is to have a good teacher in our lives for acting for anything It's so important everybody has a couple of teachers well no some people don't and that's terrible hopefully most people have a couple of amazing teachers they remember from school and a couple of amazing teachers they remember from life and I'm lucky to have had I think probably above average numbers of people who have had a great effect in my life so yeah it's just tremendously important there's nothing like a good teacher there's nothing like a good teacher that's right people who inspire you people who allow you to reach or fulfill your potential that's an incredible gift that they can give and hopefully at some point in your life you try to become then become the teacher and pass it on thank you thank you very much bye mi serve qualcuno che mi mostri il mio posto in tutto questo